50 Top Itali è una guida online dei migliori ristoranti italiani dentro e fuori i confini nazionali, è online ed è completamente gratuita come guida e si divide in due grandi tronconi, quelli dentro i confini nazionali in cui dividiamo la ristorazione italiana per quattro fasce di prezzo, quindi una categoria low cost, quindi con una spesa media attorno ai 20 Euro, trattoria osteria una spesa media attorno ai 50 Euro e poi la ristorazione italiana divisa in fino a 120 Euro ed oltre 120 Euro e poi l'altro filone invece della guida parla dei 50 migliori ristoranti italiani fuori dei confini nazionali. La peculiarità di questa guida è che è online ed è completamente gratuita, è fatta da ispettori assolutamente anonimi e paganti, non sono assolutamente professionisti, ma sono dei clienti che esprimono i loro giudizi. Assolutamente il Made in Italy è il grande protagonista di questa guida, un Made in Italy che negli ultimi anni è diventato il vero motore trainante dell'agroalimentare italiano, è diventato assolutamente un punto di riferimento per tutto l'export italiano.